Ciao a tutti, ci troviamo nella sede della SHLOC in compagnia di Salvo Tempio, a proposito di un evento che coinvolgerà la città di Augusta il 12 ottobre. Salvo, di cosa si tratta? Buonasera a tutti, buongiorno a tutti gli utenti di Rassegna Metropolitana, un ringraziamento proprio alla Rassegna che ci segue in questo percorso che stiamo facendo insieme. Il 12 ottobre ci sarà questa presentazione ufficiale alla città di tutte le attività del centro SHLOC che ci saranno durante l'anno accademico 2014-2015. Alle ore? Alle ore 19.30 presso il locale Officina 19 che è un nostro partner che ci sta seguendo in questo percorso, in questo cammino. Quindi diamo l'appuntamento a tutti per questa serata, sperando che sia piacevole in compagnia dei nostri docenti che vi presenteranno tutti i corsi, quindi un momento per stare insieme. Un momento di arte che coinvolge la nostra città, quindi a 360 gradi perché parliamo di diverse discipline, giusto? Sì, parliamo di musica, parliamo di teatro, parliamo di pittura e disegno, parliamo di fotografia, quindi diciamo l'arte a 360 gradi, almeno ci stiamo provando. Benissimo, quindi ripetiamo appuntamento all'Officina 19 alle 19.30? Sì, a partire dalle 19.30, quindi ad aperitivo, magari per chi si può fermare lì e passare, ripeto, una piacevole serata. Benissimo, allora questo è tutto da Rassegna Metropolitana, grazie e arrivederci da Jessica Bellistri.